ma davvero questo sei tu ma davvero ma che davvero si si per i film italiani western non è spaghetti spaghetti western si capisce perché che è ma non quella ma fa del mero da 8 più baschi non ci credo lupaschi quello che 10 godi san lupaschi trova un giorno che lui è sopravvissuto trova il killer che gioca nella playstation 4 ero sciolta e poi dopo quelli gli scrive adesso dimmi che faccio schifo dimmelo che faccio schifo sto ammazzato a te o ammazzato a te o ammazzato a te o dimmi che faccio schifo secondo me i nostri video spagetti western ecco perché erano la stessa dei loro i sito sono lo so, la smettere del film oh no questa mappa, lì c'era qui, in solo sezione che culo ma vai a fronte, la faccia e che ha fatto colpo e va e non c'è che ha fatto colpo, sentivo che cazzo è no ma come giocciuto il killer eh sì, è dritto di là, è dritto di là no, però il killer ha calciato il genotore che sta ballando, ma non so chi è il killer, l'ho visto tutto apportato, è il mandriano, ecco io va bene da me va no, 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 non vedi qua è stato il cazzo mio oh, no, natalisciato scappa da qui scappa da qui, scappa da qui io faccio il genio ha colpito eh, boh dove vuoi ma non tornare qua, ci scappa parca dritto ah ho funzione ho funzione, ho funzione va bene, sta finita te ancora no, no, ha fatto il generatore, ha spaccato quel generatore per lì ora sta venendo da me ma mi sa che ti prende a te, ti solleva a te fa sollevamento pesi? non lo vedo ma gli altri due cosa stanno facendo ah, che ma scusa che cazzo è morto quell'altro? là sopra ma cazzo c'è andato là sopra, volando? vediamo se scendeva qua, aspetta che lo libero subito oh, dove è andato? ma accendi su tu, direi che il king muo' attaccio, ah ma tu dove è andato? ma com'è che l'ha buttato là? ah! ah! ha sdornato ho sdornato ho sdornato ma cazzo 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 caz Ah no, sta in segui all'altro E' mozzato Oh, che ha fatto? Ah, l'ha sfumato Ma che è? Ha spaccato il Mr. Pallet Ha spaccato Ma visto? No Però quello ha fatto punti Quello ha fatto punti Ha tornato di qua? Vabbè, se lo porta lontano magari E' meglio, no? Invece se lo porta vicino Ma che fa? Questa sta fa? Vabbè, ho capito Ma non posso rialzarlo Eh, l'ha preso quello Ma viene qua Prende questo Ma visto Ma come cazzo ha fatto a vedermi? Guarda come gira Ma com'è che gira così questo? Sì Sto cazzo Oddio Ma c'era con me mo Oddio, oddio Oh, mi ammazza No, mi ammazza Oh, che culo Andate a sbattere Via No Aiuto Aiuto Claudio Sto cazzo Sa seguire l'altro Mi sa Ah, salvato quello Eh, se riesco ad avvicinarmi Sì Perché poi loro Fanno i coglioni Lo portano lì vicino E non gli posso fare un cazzo Eh, ma c'è lì vicino Non lo vedo dove Aspetta Quanto gli manca? Ok Quanti punti? Quanti punti? Stai venendo qui? Oh, zio cane Elevati Zio cane Maledetto Eh, ma c'è lì vicino C'è un traccio C'è un traccio Lo vedo forse No C'è un traccio C'è un traccio Porco mondo C'è un traccio Che c'è un traccio Che c'è Ogni c'è un traccio E si mi è riferente Bene Amica ti va Sembra bene Mi spiace Ma come che non so dove il salendo di me il basement che sta avvicinato ma ce n'era una su vicino a saluno non c'è la parola che stanno negli anni 90 ho visto che ha spaccato un pallet sta andando su no ok ha spaccato le porte ogni tanto si rifà il generatore che stava lì è stato visto forse sta venendo qua da me a quel percola del cazzo vola che vede i generatori quando sono finiti capito quando sono ultimi a finire praticamente ma lontano ma visto la forza mi stava puntando no no non mi ha visto il culo perché non mi ha fatto vedere che boh non capisco non so neanche dove cazzo è andato ma perché non lo vedo più col percola no boh non ha senso non lo vedo più col percola cioè non me lo da più col percola ma che cazzo boh non è chiaramente il paletto ma quella preso lo stesso ma mi sa che il volo di è morto mi sono lo so ma io ho finito un generatore a no non è morto al secondo stato eh sì sì vai tanto mi sa che lui viene qua dove ho fatto io il generatore vediamo mi sa di sì ho visto qualcosa che si muoveva là in fondo poi c'è che mi sarà pieno da voi adesso incazzata con la testa pelata ma non c'è per il design non c'è le cose ma non c'è l'amico in generatore ma che fa ma questo qua è ma nessuno nessuno che li sta facendo cazzo ma che è pensare di scavalcarsi e invece è invece con shot out no ma viene verso di me verso di me viene proprio ah si sta venendo verso di me mi sa mi controllasse dentro l'armadietto corpodio mi sono cagato sotto ha spaccato quello quel pallet lì cioè quel pallet penso sì se ne va molto lontano e io mi metto a far girare dopo e ha preso moris 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 con le moto mi fa mi rivolge di cazzo mi sa che era morto sì e va bene non lo vedo no 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 cazzo la val bella come val bella se tu hai il basement di più a spontanea volontà la val bella tessi uno c'è l'è dietro ho fatto l'ultimo generatore che è successo ha inculato o lo vedo forse no perché non lo vedo con lenta non me lo dà non me lo segna sarebbe fatto quando può fare un contino è dove ho fatto io il generatore aperto l'uscita è dove abbiamo fatto la prima volta che tu hai visto e detto a david king sempre quella zona lì praticamente ho aperto l'uscita spaggiano con questo qua come si chiama è mkyrie la croce che sta venendo lui sta venendo lui è qui è qui da noi si 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 è bello che si due pippo ma fa ho fatto due pippo con uno del pc magari con uno del pc livello 9 madonna c'è mastro fabbolo come al solito che c'è il carino a 3.000